Presto si arrenderanno. Spike avvistata. Troppo l'ha distrutta. Arrivo. Pensaci tu che io. Vado in B. Andiamo. E ora balliamo. Nemicina. Ritirata. Au revoir frero. Avete visto Sova? Impressionant. Quest'uomo sa il fatto suo. È il momento dei saluti. Spike piazzata. Ricarico. Fuori portata. A volte mi stupisco da solo. Qui. Ok. Un'ultima occhiata. State benissimo. Io ovviamente sono impeccabile. Siamo pronti. Parfait. E va bene. Giochiamo. Teletrasporto distrutto. Addio. Aspettiamo. Chiedo scusa. Pessima situazione. È stato divertente. Dovremmo rifarlo. C'ero quasi. Ricarico. Buon chance mes amis. Chiedo scusa. Avanti. Non reggono il confronto. La cosa non mi sorprende. Vado in B. Se mi vedete sorridere. Non fraintendetemi. Prendo tutto molto sul serio. La Spike è a terra. Ai. Non è vero che basta vincere. Bisogna vincere alla grande. E soprattutto con stile. No. Purtroppo non siamo riusciti a risolvere le nostre divergenze. Sova. Ecco un uomo dai sani principi. Ma già infranto delle regole. Dico bene? Oh. Certo che sì. Dopo di te reina. E quattro. Offro io. Se vi serve. Il nostro accordo? È saltato. Scusa per lo scarso preavviso. Nemicina. Sembra quasi già vinta. Ultima pronta. Un regalo. Adoro vincere. Controllo qui. No. La Spike è al centro. Centro perfetto. La scelta dell'arma è davvero una cosa personale, sapete? Rivela quello che sei. Silenzio ora. Nemici in B. Di sicuro possono fare di meglio. Mandiamoli via. E sono tre. Nemico nella base attaccanti. Dovevi impegnarti. No. Basta guardarmi. Dobbiamo concentrarci. Al mio via. La mia ultima è quasi pronta. Vado in A. Adiel. Nemico in A. Spike avvistata. Servono cure. Cacciamoli da qui. Sparisci. Sparisci. Sto comprando. Magnifico. Nemico al centro. A mai più rivederci. Isola maledetta. Spike è nella base difensori. Chissà se quel Cypher sa quanto sono preziosi i suoi segreti. Meglio se sto attento. Piazza la Spike. Non ancora. Come pensavano che sarebbe finita. Vado io. Arrivo. Io risparmierei. Senza cariche. Hanno mostrato le loro debolezze. Pessima mossa. Devo dire che mi piace come hanno sistemato qui. Liberiamo l'area. Dimmi cosa hai scoperto, Cypher. Scusa, intendevo dici. Diccelo, per favore. Piaciuto lo spettacolo? Ma certo che sì. Nemici nella base difensori. Vado in A. Vediamo cosa hanno in serbo per noi questa volta. Eliminateli. Andiamo lì. Magnifique. Cypher. Incroyable. Sai sempre come stupirmi. Beau travail, Yoru. Sei d'ispirazione. Amici, è stato un piacere. Au revoir. Astra è andata. Ok, ricominciamo. Un proiettile per nemico dovrebbe bastare. Oui? Aspettiamo. Bonjour. Raggruppiamoci. Si avvicina qualcuno. La mia ultima è quasi pronta. Mi dispiace, non ho saputo resistere. Niente male. Un altro giro? Ho preso qualcuno. Nemici nella base attaccanti. Che posso dire, Astra? Je reste sans voix. Sono senza parole. Iniziano a essere nervosetti. Spike lasciata. Spike lasciata. La Spike è in A. Adoro quest'arma. Mastra. È un piacere vederti. Al tuo servizio, mademoiselle. Fate attenzione lì. Imbarazzante. Questi nuovi amici non sono poi così amichevoli. Andiamo lì. Qualcuno ha dei fondi? Sì. Prima mirate, poi sparate. Non complichiamo le cose. Pensavo che avrei sudato sette camice. Evidentemente mi sbagliavo. Bonjour. Se non ce la fate, cercate di insistere. Dobbiamo mantenere le apparenze. Che spasso! Fatti da parte. Ora diamo un'occhiata a questa bella mano. Disinnesca la Spike. Spendete tutto. Non siate avari. Ho la Spike. Bien joué, che io. Sei inarrestabile, amico mio. Qui. Oh, mi piace. Offro io, se vi serve. Divertitevi. Ho la Spike. Quindi, dobbiamo uccidere il mio doppio. E sia. Faremo meglio a non dimenticarci la Spike. Nemici in C. Nemico nella base attaccanti. Chiedo scusa, sto lavorando. Brimstone, sono la tua chiave di accesso. Potresti almeno far finta di gradire la mia presenza? Nemico al centro. Teletrasporto andato. La Spike è in B. Il primo che trovo. Spike è nella base difensori. Non ancora. Nemici nella base attaccanti. Meglio tagliare i punti. Spike è nella base attaccanti. Reina, quello che hai fatto... Non ci posso credere. È davvero incredibile. I nostri ospiti sono arrivati. Facciamo loro una buona impressione, d'accordo? Ok. Per stavolta non ho vinto. Silenzio ora. Bene, ma c'è ancora da fare. On e pas au t de l'auberge. Tutto pronto. Vai, Per, non fingere di non essere felice di vedermi. Dentro di te stai sorridendo, lo so. Ho vinto ancora. Qui è successa una cosa terribile. Ovviamente non ho nulla a che fare con questa disgrazia. Eccone uno. Killjoy, non potrei mai indossare quella giacca. Ma addosso a te. Superb. Disinnesca la Spike. Ci avviciniamo. A quanto pare questi stranieri mi vogliono morto. Eh bien, non sono certo i primi. Excuse moi, nemici al centro. Vado in C. No. Beh, potete scordarvi che pulisca io. Uccidere è terribile. Ma come dico sempre, se devi fare una cosa, falla bene. Qui c'è un'arma. Oh no, sono giunti degli invasori bramosi della nostra radianite. Scusate, facciamoli fuori. La Spike è in C. Troppo lontano. Pardon, monsieur. Ci stanno rendendo le cose facili. Sono già morti. Nemico in B. Riposizioniamoci. Assaltiamoli. Ultima pronta. Servono cure. La mia ultima non è pronta. Tranquilli, amici radianti. Penserò io al loro tostapane parlante. Occhi sul bersaglio. Questo è solo l'inizio. Bonjour. Bonjour, Ioru. Sei splendente come sempre. Magnifique. Siete stati tutti eccellenti. La Spike è in C. Puoi fare di meglio. Reina, devo dire che è un vero piacere lavorare con te. È difficile trovare gente con la tua... esperienza. Ecco qualcuno. Nemico in A. Madame, monsieur. La Spike. No. Ancora uno. Spike piazzata. Liberiamo l'aria. Quel cypher sa troppo. Troppo lontano. Servono rinforzi. Io risparmierei. Sto comprando. Nemici al centro. Se oggi morirete vi ricorderò per sempre. È stato un onore. Non sbaglio mai. Vado in C. Chiederei loro scusa ma, ahimè, sono morti. Nemico in B. Avete visto che roba? Nemici in B. Faranno degli errori, fidatevi. E noi ne approfitteremo. Ok, vediamo un po' che arma scegliere. La Spike è in B. Che io? Hai un look così industriale. Funziona, ma io punterai più in alto. Posso darti qualche dritta. Mi muovo. Devo andare, prima che qualcuno mi riconosca. Merci. La Spike è in A. Non posso. Fate attenzione lì. Adieu. Non fatevi colpire dal mio doppio. Morirete. Controllo qui. Vado al centro. Sono desolato. Non posso. Al mio via. Prendete le loro armi. Vite. Oh, grazie, grazie. Troppo gentili. Oh, che lentezza. Scordatelo. Nemici nella base difensori. Merci. Eccone uno. Niente male. Hmm, c'eri quasi. Così non si rialza. Terminus. Ora hanno la mia attenzione. La Spike è qui. Ancora uno. Hai buon gusto, mon ami. Nemici in C. Era il loro elemento migliore? Imbarazzante. Tratta bene i miei segreti, Cypher. Cerchiamo di restare amici. La Spike è a terra. Ma avanti. Raggruppiamoci. Fuori portata. Nemico nella base difensori. La mia ultima non è pronta. Comprate le armi migliori che potete. Mi muovo. Sì, queste armi non sono male, ma se non vi dispiace porterei anche le mie. Senza offesa. Chiedo scusa. Eravate di troppo, quindi era inevitabile. La Spike è qui. Sì, senza cariche. Attenzione, quel portale non funzionò come previsto. È stato un pessimo investimento. Ho visto di peggio. Andiamo avanti. Puntiamo alle uccisioni. Accidenti, mi si è rovinato il vestito. Oggi niente spettacolino pirotecnico, temo. Qualcuno ha dei fondi? La Spike è al centro. Nemico nella base difensori. Sono davvero... Favoloso. Assaltiamoli. Perfetto. Hai perso. La tua morte mi addolora, ma purtroppo non fai parte del mio grande piano. Vado al centro. Ci vediamo. Dovrebbe andare. Nemico in C. Avete visto le loro facce? Scusate, non dovrei ridere. Non preoccuparti. Con me sarà facile. Sessant con bonjour. Ecco qualcuno. Meno uno. Il prossimo. Nemico in C. Mi dispiace di essere arrivato a questo, Cypher. Teletrasporto pronto. Merci. Ah, l'altra Astra. Se muore, potreste prendermi quel braccio di metallo? Merci. Si avvicina qualcuno. Non avranno mica pensato che avrebbe funzionato. Puntiamo alle uccisioni. Teletrasporto pronto. Riposizioniamoci. Qui c'è un'arma. Non può farlo nessun altro? Buona fortuna, Astra. Ecco qualcuno. Si è rotto il tostapane. Direi che la cosa è durata abbastanza. Sapevi di non poterti fidare di me. Chi è quell'uomo così ben vestito? Ah, l'altro me. Ovvio. Hanno scoperto la mia trappola. Servono rinforzi. Ok. Facciamo una pausa. Ritirata. Ci hanno notati. Statemi dietro. So come si fa un'entrata ad effetto. Vado io. Spike è nella base attaccanti. Qui è un buon punto.